L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBETV ed E'Nostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come E'Nostra. KiloWatt Talk, l'approfondimento di RBE TV su energia e sostenibilità. Interviste, servizi e approfondimenti per mettere a fuoco la transizione energetica. KiloWatt Talk, una produzione RBE TV con Vibes Video Backlit Studio in collaborazione con E'Nostra. Il terribile conflitto in Ucraina ha portato sotto gli occhi di tutti le numerose storture nei rapporti internazionali, specialmente lungo quei fili che legano la politica con l'economia. Come gran parte delle guerre degli ultimi decenni, uno degli elementi centrali di quella scoppiata alle porte dell'Unione Europea sono i combustibili fossili, di cui la Russia è uno dei massimi produttori mondiali. Molti dei paesi europei erano, e in parte sono ancora, dipendenti dalle forniture del Cremlino, perciò l'aggressione del paese ha messo sul piatto una decisione delicata. Se reagiamo, tagliando gli acquisti di combustibili dalla Russia per privarla di risorse, riusciremo a soddisfare le nostre necessità energetiche? Ma non c'è davvero bisogno di una guerra sanguinosa per rendersi conto che una dipendenza così intensa dalle importazioni di energia può essere un grande rischio per un paese. Non si tratta di auspicare l'autarchia, ma di costruire una rete più sicura e resiliente. E con le energie rinnovabili si può addirittura fare un passo in più. I singoli cittadini possono diventare essi stessi produttori dell'energia che consumano, attivando quelle comunità energetiche che sono al centro del nostro discorso. Si parla di prosumer, una crasi di producer, produttore, e consumer, consumatore. Questa è la quarta puntata di Kilowatt Talk, la trasmissione di RB e TV su energia e sostenibilità, realizzata in collaborazione con Enostra. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, i consumi elettrici italiani del 2023 sono stati 306,1 miliardi di kilowattora. Nel corso dell'anno, il rapporto tra import e export si è attestato al 69,9%, un dato che risente di un'impennata dell'import, un aumento del 48%, e di un netto calo dell'export, meno 39%. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 36,8% della domanda di energia, in crescita rispetto al 31%, coperto nel 2022. Per sostenere acquisto e produzione di combustibili fossili, l'Italia nel 2022 ha speso 57 miliardi di euro circa in sussidi al settore. La cifra equivale al 2,8% del PIL. Per rendere l'idea, è come se ogni abitante avesse pagato circa 1.000 euro. Il combustibile fossile maggiormente importato è il gas naturale, che fino al 2021 era importato in primo luogo dalla Russia. Ora abbiamo ridotto queste forniture a favore di Algeria, Azerbaijan, Nord Europa e Libia. Il 26% del gas che utilizziamo lo importiamo in forma liquefatta, soprattutto da USA e Qatar. Per utilizzarlo servono ingombranti rigassificatori, la cui installazione è fortemente contestata a Ravenna, Piombino e Vado Ligure. Ci sono quindi due elementi da prendere in considerazione. Il primo è che l'Italia dipende in maniera schiacciante dalle importazioni per quanto riguarda la produzione di energia. Il secondo è che lo Stato sta investendo ancora troppo poco nel rinnovabile. Ad esempio ci sono 1.400 progetti circa legati ad impianti rinnovabili che sono congelati in questo momento, mentre allo stesso tempo viene forzata l'installazione ad esempio di rigassificatori come misura di emergenza. E quindi l'autoproduzione di energia è sì una questione ambientale, ma anche sociale, economica e politica. Ad esempio ci permetterebbe di evitare alcuni compromessi con governi controversi. E poi bisogna considerare i grandissimi introiti che le compagnie petrolifere stanno facendo in questi anni. Una calcolo di Global Witness ci dice che le compagnie petrolifere in totale hanno guadagnato circa 281 miliardi di dollari da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. E tra l'altro anche la Russia sta continuando a guadagnare dalla vendita di petrolio e di altri combustibili fossili nonostante tutte le sanzioni. E poi a voler essere più strettamente cinici, l'energia verde semplicemente ci conviene sia come nazione sia come privati cittadini. E allora parliamo, lo facciamo con Giacomo Prennusci, sempre per E Nostra, che ci racconta proprio un loro esperimento, quello dei prosumer. Ciao Gianni. Io vorrei arrivare al concetto di prosumer facendo un piccolo passo indietro perché parte della parola appunto a prosumer ha a che fare con la produzione di energia autonomamente e quindi proviamo appunto a capire questo concetto al di là poi del fatto che l'energia sia condivisa o meno. Insomma se qualcuno di noi volesse costruirsi un impianto in casa, tendenzialmente fotovoltaico, poi forse qualcuno può anche permettersi l'eoricum un po' più complicato, però insomma è qualcosa che ha la portata da un punto di vista, come dire, al di là del lato economico, però insomma lo si può fare senza grossi problemi oppure insomma qual è la situazione? Partirei dalla parola stessa, no? Prosumer è l'unione di due termini inglesi, in italiano non c'è ancora una traduzione che lo identifichi bene come concetto, è l'unione di due termini inglesi producer e consumer, quindi è l'unione in uno stesso soggetto del produttore e del consumatore e quindi è chiaramente un'unione logica, un termine logico, che indica di fatto una persona che è nello stesso tempo produttore di energia e consumatore di energia. Questo per andare oltre il paradigma classico del mondo dell'energia, in particolare il mondo elettrico, per cui io ho da un lato un produttore, normalmente su grossi impianti centralizzati, dall'altro invece ho dei consumatori. In questo caso il soggetto, diciamo che ha a disposizione un suo impianto, poi torno al tema, alla domanda sul fotovoltaico, no? Utilizza in primis l'energia che produce, quindi autoproduce energia per se stesso e poi mette in rete, quindi cede a terzi l'energia che produce ma che non autoconsuma fisicamente, quindi mette a fattore comune l'energia in eccedenza. Nel caso del fotovoltaico, che è un po' l'applicazione più semplice, anche più efficace di generazione distribuita di rinnovabili, cosa succede? Una persona monta sul tetto di casa sua un impianto fotovoltaico, lo collega direttamente al suo quadro di casa, quindi facendo in modo che quella produzione serva con priorità i suoi fabbisogni interni e poi se i suoi fabbisogni non coprono tutta la produzione c'è un'eccedenza che viene versata nella rete e viene ovviamente contabilizzata. In questo senso la scelta di, dove si può ovviamente, di fare un impianto fotovoltaico sul tetto è la scelta principe dal punto di vista sia dell'efficacia energetica che anche di quella economica, nel senso che chiaramente se io mi autoproduco un chilometro dal tetto non lo prendo dalla rete e questo significa che non pago tutte le voci di fabbolletta che sono proporzionali all'energia. In più, dal punto di vista di sistema, non vado a gravare su tutto il sistema perché l'energia arriva direttamente da casa mia e quindi non devo chiederla alla rete e in questo senso la generazione distribuita ha anche un significato di ridurre i rischi legati alle connessioni alle reti in bassa media tensione eccetera. Però molto spesso insomma il termine prosumer non è utilizzato per indicare semplicemente chi ha il proprio impianto e insomma si produce energia da sé ma c'è anche l'opzione di far parte di una comunità energetica per l'appunto in cui magari anche chi non ha la possibilità di installarsi un impianto può usufruire di questo, di quest'altro appunto impianto installato da qualcun altro perché appunto ci si mette d'accordo nello sfruttare questa energia quindi se nessuno di noi ha la disponibilità per installare un impianto non è detto che non possa usufruire di questo tipo di appunto pannelli o cose varie. Noi abbiamo introdotto proprio una soluzione per chi non può farsi un suo impianto fotovoltaico, ad esempio chi abita in città in condovine o chiaramente non ha della superficie su cui installare l'impianto. Questa questa idea che prende spunto dalle esperienze internazionali già avviate in Europa alcuni anni fa, nasce di quel presupposto per cui invece di fare tanti piccoli impianti dove chi non ha la possibilità può partecipare a una quota di un impianto più grande che chiaramente viene installato dove dove si trova lo spazio quindi da qualche altra parte non c'è un legame geografico stretto e quindi cosa fa investe dei soldi per finanziare una quota parte di un impianto più grande quindi anche godendo di economie di scala legate alla taglia dell'impianto perché chiaramente i costi di installazione decrescono al crescere della taglia dell'impianto e alla possibilità di utilizzare comunque in casa l'energia prodotta dall'impianto che sta finanziando. È chiaramente un concetto di prosumer virtuale nel senso che non c'è un collegamento fisico tra l'impianto e il contatore di tutti i finanziatori dell'impianto stesso però noi siamo riusciti a costruire un meccanismo per cui chi fa questa cosa utilizza proprio nella sua bolletta l'energia prodotta dall'impianto non solo la paga a un prezzo che riflette il costo di produzione e quindi la nostra ambizione e il nostro obiettivo è quello di sganciarsi completamente dal mercato dell'energia quindi creando un legame uno a uno tra la produzione del consumo senza essere inficiati da tutte le dinamiche che poi alterano il prezzo in borsa che sono spesso legate all'andamento del prezzo dei combustibili fossili quindi sganciandosi dalle fossili che è una delle nostre parole chiave legate a questa proposta e questo mi dà proprio lo spunto per aprire una piccola parentesi un po' più generalizzata nel senso che non solo questo tipo di pratiche ci permette di sganciarci dalle fossili ma questo tipo di pratiche è possibile solo se ci sganciamo dalle fossili nel senso che una una un tipo di produzione di energia del genere con il petrolio con il carbone col gas non sarebbe possibile forse sarebbe possibile ma qualcosa di davvero assurdo avere un impianto che di produzione di energia da petrolio nel proprio cortile che lo si divide con con i vicini e soltanto con le con le rinnovabili si può si può agire in questo modo beh diciamo le rinnovabili sono particolarmente interessanti perché io posso avere degli impianti di piccola taglia anche di piccolissima taglia che ormai oggi hanno dei costi assolutamente accessibili e che producono energia localmente teoricamente uno con un motore aerotermico potrebbe autoprodursi col gasolio per la benzina l'energia per la casa e quindi fare un meccanismo del genere però questo significa di fatto avere un motore che che brucia combustibile fossile che emette dei gas inquinanti e quindi da un punto di vista poi finale se c'è dell'energia elettrica ed è in eccedenza può essere anche in quel caso messa fatto al comune della di chi è di vicino anche se però in generale a livello domestico non esistono dei casi di applicazione di generatori fossili connessi alla rete chiaro sul lato industriale questo è diverso allora abbiamo visto un po le gli elementi diciamo pratici di tutta la questione ha spiegato un po come funziona arriviamo a insomma a ragionarci sopra un punto di vista più ampio perché fare una cosa di questo tipo perché diventare prosumer quale qual è il vantaggio rispetto a semplicemente pagare una bolletta ad un fornitore ma alla prima motivazione che spinge una persona a partecipare a questa iniziativa è una motivazione legata alla partecipazione a un modello nuovo di fare energia nel senso che il nostro fondo noi abbiamo dei fondi ciclici di investimento che sono finalizzati a realizzare nuovi impianti quindi chi investe come prima cosa desidera che si sviluppino le rinnovabili in italia rinnovabili di piccola media scala quindi a basso impatto ambientale e desidera anche fare questo tipo di azione in forma partecipata quindi la prima spinta per noi anche quella che raccontiamo i nostri soci sovventori che sono coloro che finanziano è quella di fare una scelta etico ambientale dopodiché c'è dietro anche un risvolto molto interessante rispetto agli termini economici e al principio di potersi autoprodurre in forma virtuale l'energia di cui si ha bisogno per questo l'abbiamo chiamata tariffa prosumer nel senso che non è proprio un vero prosumer nel senso che uno non ha l'impianto sul tetto però utilizza comunque l'energia da un impianto a cui sta partecipando e tant'è che noi suggeriamo abbiamo costruito un simulatore che permette alle persone di capire qual è l'investimento giusto da fare per coprire tutto il loro fabbisogno energetico perché invitiamo le persone a investire a tarare il loro investimento sulle necessità effettive e parliamo sempre di investimenti di piccola scala nel senso che ci aggiriamo intorno ai 1500 2000 2500 euro quindi non sono investimenti non piccolissimi certo però neanche enormi e quindi seconda battuta l'altro elemento importante che facendo questo io posso comprare energia rinnovabile ad un prezzo che è un prezzo equo e fisso nel tempo che riflette il costo di produzione c'è anche proprio il principio di stabilizzare i propri costi energetici per un periodo che è almeno lungo 12 anni quindi lungo tanto quanto la durata del conferimento del capitale tenete conto che il capitale viene comunque restituito al tredicesimo anno quindi è un finanziamento a tutti gli effetti e se il nostro parco impianti performa nella maniera diciamo attesa la nostra assemblea dei soci può anche decidere di distribuire una piccola remunerazione del capitale investito quindi c'è anche un potenziale ritorno di tipo finanziario anche se chiaramente su un investimento da 2000 euro un ritorno del 2-3% ha un suo significato ma non cambia la vita all'investitore ovviamente. Non può essere quello l'obiettivo principale insomma insomma al di là di questo specifico meccanismo ritornando insomma alla descrizione del concetto di prosumer della persona prosumer è un concetto che va sostanzialmente di pari passo con il tema della comunità energetica rinnovabile non necessariamente però insomma sono dei temi che sono molto molto in dialogo e da qualche tempo da poco tempo abbiamo finalmente un decreto che dovrebbe appunto indicarci come insomma la strada da intraprendere nel caso vogliamo mettere su una comunità energetica rinnovabile e quindi appunto visto che i prosumer sono un po' al centro di questa questione ci puoi raccontare un po' insomma i dettagli sono tanti ma ecco se vogliamo intraprendere questa strada da dove partiamo? La comunità energetica rinnovabile effettivamente è un po' una proposta, una soluzione di sintesi del tema dell'essere un singolo prosumer a casa propria o dell'essere un prosumer virtuale su scala nazionale nel senso che identifica sotto uno spazio geografico che poi è determinato della cabina primaria della rete elettrica una zona di scambio di energia tra produzione e consumo e favorisce proprio lo sviluppo di nuovi progetti di produzione e lo sviluppo di consumo simultaneo quindi facendo in modo che effettivamente a livello locale venga prodotta nuova energia rinnovabile in sostituzione dell'energia fossile e questa energia venga utilizzata quando viene prodotta quindi c'è proprio un meccanismo di diciamo costruzione di modello di scambio alla prosumer su scala locale dove soggetti che producono possono essere contestualmente sia produttori che consumatori poi all'interno della comunità sono anche presenti soggetti che sono esclusivamente consumer quindi che sono esclusivamente dei consumatori oppure soggetti che sono esclusivamente dei produttori però il meccanismo dello scambio locale dell'energia è proprio alla base della comunità energetica che premia quelli che vengono chiamati consumi simultanei quindi i consumi dei membri della comunità che corrispondono in termini proprio su base oraria a quella che la produzione è disponibile e questo quindi è un incentivo che mi ha volto ad ottimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile su scala locale. Esatto quindi insomma c'è stato un po' un periodo di incertezza in attesa che venissero definite tutte le misure, le norme e tutto quanto ci sono ancora alcuni dettagli da capire ma insomma la strada è stata aperta e quindi ci si può informare si può cercare di capire anche insomma se siete interessati a casa a questo al tipo di cosa che vi abbiamo raccontato oggi avete scoperto insomma che non è necessario avere un impianto nella propria casa per far parte di questo tipo di dinamiche. Insomma direi che abbiamo chiesto tutto il tutto il possibile al nostro ospite e quindi lo ringraziamo ancora. Grazie mille davvero a Giacomo Pernucci e alla prossima. Grazie a voi, grazie per l'invito. Abbiamo parlato proprio di prezzi anche qui, del lato economico di tutta la questione e di Caro Energia si è parlato parecchio negli ultimi anni, proviamo a scoprirne qualcosa di più. Un altro fenomeno legato alla guerra in Ucraina ma anche alla pandemia è stato il Caro Energia. La guerra ha accelerato tutto. Pesava il timore che la Russia potesse tagliare i rifornimenti per rappresaglia al supporto occidentale a Kiev mentre i paesi europei si muovevano per ridurre fin da subito quella dipendenza. Nel corso del 2022 il prezzo dell'energia è salito così a livelli record ma in quell'occasione era salito il prezzo di tutta l'energia anche quella prodotta da rinnovabili. Ad esempio erano cresciute anche le bollette di Enostra che offre soltanto energia rinnovabile. Perché? Il punto è che il prezzo dell'energia è legato alle oscillazioni di prezzo di tutte le fonti e la più cara spinge anche le altre. Enostra non produce tutta l'energia che usano i suoi soci, in parte la acquista altrove. Nonostante anche questi produttori siano pienamente rinnovabili il prezzo resta quello di borsa. Oggi il prezzo del gas e quindi di tutta l'energia è tornato a scendere a livelli simili a quelli precedenti alla guerra in Ucraina anche se nel frattempo si è vista un'impennata dell'inflazione che ha inciso anche sui prezzi dell'energia. Ma intanto molte aziende sono state costrette a chiudere. Nel frattempo sono state prese decisioni per limitare queste impennate di prezzi ma rimane una certezza. Prima abbandoniamo i combustibili fossili prima ci mettiamo al riparo da simili rischi. Allora stiamo ragionando un po' di vari metodi per inserirsi nell'ambito della produzione dell'energia. C'è questa parola chiave sulla quale ragionare un po' meglio, la parola prosumer. Allora raggiungiamo proprio chi ha il ruolo anche di prosumer all'interno di Enostra. La raggiungiamo a distanza. Silvia ciao benvenuta e grazie. Ciao ciao Alessio ciao a tutti grazie a voi. E insomma come è qualcosa di complicato a cui stare dietro come come ti trovi? Che cosa vuol dire dal punto di vista pratico poi essere prosumer? Allora diciamo che ciascuno potrebbe in caso essere prosumer anche autonomamente il classico esempio è quello di mettersi il pannello fotovoltaico sopra il tetto della propria casa soprattutto per chi magari ce l'ha unifamiliare e quindi diventa produttore e consumatore dell'energia che produce da quel pannello fotovoltaico sopra il tetto della propria casa. Diciamo che è un pochino più complicato anche se dall'altra parte entusiasmante secondo me il fatto di farlo collettivamente e quindi di farlo insieme ad altre persone e soprattutto poterlo fare nonostante magari uno non abbia la propria villetta casetta unifamiliare su cui mettere il pannello fotovoltaico. E quindi diciamo che Enostra è uno degli attori e penso sicuramente il primo ad aver intravisto e ad aver attivato modalità per riuscire a farlo mettendo insieme, mettendo in comunicazione e in diciamo ruolo attivo appunto coloro che possono avere impianti di produzione di energia da attivare da costruire su tetti, capannoni oppure anche a sestanti con consumatori che invece non hanno la possibilità di mettere direttamente il pannello appunto sopra la propria testa ma sono interessati comunque a realizzare un impianto di produzione e quindi mettendo insieme le forze, mettendo insieme le risorse sia economiche che di spazi e di strutture e di conoscenze si riesce a fare questo connubio e si riesce a fare questo contributo ad assumere il doppio ruolo. Quanto riguarda la tua scelta personale diciamo per insomma verso questa direzione con l'appunto di assumere questo questo ruolo, che cosa ha giocato? Il lato economico, il lato dell'attenzione all'ambiente, al clima? Allora principalmente direi in maniera assoluta per me ha giocato il ruolo invece, il ruolo di principio non il ruolo economico perlomeno inteso come si suole dire normalmente, economico cioè inteso in senso di risparmio. Per me prima di tutto, tra l'altro io essendo tra i primi soci della cooperativa Enostra sono una di quelle che anche ha diciamo aderito per prima al primo fondo di produzione che è stato ovvero quindi la raccolta di contributi, di capitale, di investimento per poter realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi la mia scelta inizialmente è stata assolutamente solo di principio anche perché era stato il primo il progetto pilota diciamo il primo tentativo, il primo passo e bisognava anche ancora un po' vedere pur ovviamente con una fase di progettazione e valutazione il più attenta possibile, rigorosa però bisognava un po' andare a vedere quanto, tempo, come, insomma tutta una serie di parametri. Quindi inizialmente la scelta è stata assolutamente di principio, è stata una scelta di adesione completa e insomma il fatto di essere assolutamente convinta dell'essere socia di Enostra in quanto proprio perseguendo la vision e la mission della cooperativa che è quella di realizzare la distribuzione di energia prodotta, il più possibile autoprodotta da fonti di energia rinnovabile in maniera etica e sostenibile che sostanzialmente va a mettere in pratica, a mettere a terra, a realizzare la transizione energetica che è fattore chiave per la realizzazione della transizione ecologica dell'economia e quindi arrivare sì al fattore economico ma nel senso di un'economia più giusta e sostenibile per tutti e quindi sganciarsi dalla logica estrattiva e di sfruttamento di risorse non rinnovabili quantomeno nel periodo in cui si considera una rinnovabilità e quindi procedere verso la produzione e la base dell'economia in senso lato quindi con tutte le necessità energetiche del caso su base invece rinnovabile e anche etica sostenibile e comunque pulita perché come sappiamo le fonti di energia rinnovabile a parte la produzione dei supporti materiali che sono necessari quindi il pannello fotovoltaico o la turbina eolica fatto quello che ha il suo relativo impatto per il resto producono energia che è pulita non genera altri impatti, emissioni eccetera quindi per me diciamo un'adesione di principio proprio da un punto di vista di sostegno e contributo alla produzione di energia pulita per la transizione energetica, per la transizione economica nel rispetto dell'ambiente quindi sì nei confronti del cambiamento climatico ma in realtà direi anche più nell'ambiente in senso lato Chiaro, sono due cose che ormai non possiamo più considerare separatamente, inevitabile e quindi appunto restando un po' su questo tuo punto di vista personale su questa tua scelta personale dopo appunto tu ci racconti che già da tempo sei stata una delle prime a intraprendere anche questo ruolo di prosumer ti sembra qualcosa di complicato? Potremmo tranquillamente pensarci tutti? Ma secondo me possiamo pensarci tutti e adesso anche un po' più tranquillamente di prima nel senso che appunto è stata fatta un po' di palestra è stata fatta un po' di affinamento anche della modalità delle modalità di adesione quindi in realtà non è tanto complicato diciamo che la parte complicata la gestisce è nostra il personale, lo staff che gestisce appunto l'attività della cooperativa da un punto di vista di socio l'adesione è molto semplice basta sostanzialmente scegliere di destinare una piccola parte, una quota di soldi insomma di capitale da investire l'orizzonte di investimento era di 10 anni adesso mi sembra che sia di 12 però sostanzialmente è un investimento che consente comunque di da una parte contribuire sotto la linea di principio di cui dicevo prima dall'altra anche da un punto di vista di diciamo risvolto economico in quanto comunque per quanto poco il capitale poi viene remunerato quindi a fine periodo di investimento diciamo c'è un ritorno e nel frattempo poi c'è anche a proposito appunto di prosumer anche proprio la possibilità di attivazione della tariffa prosumer che è una tariffa dedicata che la cooperativa è nostra ha voluto creare e proporre proprio per premiare da una parte ma manifestare diciamo in maniera tangibile proprio questa correlazione quindi non solo il contributo alla realizzazione di un nuovo impianto che poi ha i suoi tempi di utilizzo e di durata ma anche nel frattempo proprio una tariffa che riconosca il prezzo di vendita dell'energia al consumatore socio che ha partecipato alla sovvenzione legato questa tariffa legata proprio al costo di produzione di quell'energia quindi slegando la tariffa dal costo di mercato grazie mille davvero Silvia per questo tuo contributo e per oggi è tutto la nostra puntata si chiude qui e ci risentiremo la prossima settimana ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti